E' un altro pensierino un po' filosofico, oggi va così, prima di entrare alla scuola di circo, che... ecco, me lo sono già dimenticato, vedi? No, eccolo qua, di pensare che anche ci abbiamo già tutto dentro, bisogna far pulizia, ma non è che ci dobbiamo lasciare influenzare da sta gente, insomma anche strutture alte, società, culture strane, che ti dicono sempre che non vai bene così come sei, cioè io me lo sto ripetendo perché non rientro in nessuna categoria, non ce la faccio, non voglio, no, 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 siccome siamo anche nell'epoca delle etichette, sta roba qua che uno non li puoi etichettare una roba addosso dà molto fastidio, però come dicevo prima alla mia amica carissima, la rivoluzione si fa da dentro, da dentro, 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 non fuori, dentro, con delicatezza, fermezza, anche un po' di dolcezza, un po' di ironia, secondo me, ma ci stiamo provando, eh, guarda, tutto un tentativo, poi domani magari mi rendo conto che no, tutta una scuola qua, altro che scuola di circo, circo, eh, almeno controlli quello che fai, la vita, è tutta un'acrobazia qua, un'acrobazia, è vero che è vivere che è difficile, è facile, è morire, fermati qua, eh, ma cosa cazzo vuoi che faccia, che corra, stronza, ma vaffanculo, ecco, vedi, dolcezza, ironia, c'era una che siccome non posso correre, mi stava prendendo sotto, perché lei era in macchina, col macchinone, doveva girare, c'è, e allora gli ho detto, così, io adesso mi esprimo, e chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è, e basta con i rimorsi, ecco, ecco c'è la scuola,